Ciao a tutti i ragazzi, bentornati in un nuovo video, oggi giocheremo nelle mine war Eh sì, eh Eh sì, non ci abbiamo mai 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 giocato, non so come mai Non so come mai, va bene Io forse ci ho giocato una volta, non mi ricordo bene Però, scusa qua, non mi ricordo più Non so come si gioca, no, non so come si gioca I video su questo, però è difficile Oh, è difficile, certo E' un attimo fino a... ok Ui, è un zucco veloce Non so come... ok No Come si fa questo gioco, non mi ricordo Come si gioca? Eh Non avvi niente Fare, è grandioso Non ha capito come si gioca Motion parkour Non ci vedo niente Questi qua Ma non ci vedo niente Via Sì Non ci vediamo niente Oh, è un zucco veloce Oh, cavolo Oh, no Cavolo E' da pazzi E' da pazzi No, non ci ho mai giocato quindi è difficilissimo Cioè, per me è difficilissimo Bene Eclosive catch No, boiato Caccio, boiato Caccio 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 Non riesco a fare un cacchio Caccio 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 Porca Non riesco a fare proprio un cacchio Ma, 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 ma che tutti mi seguono? Pensano 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 No No, vabbè No, vabbè Cosa? Ok, di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Cavolo Non di nuovo Cavolo Non di nuovo E no E no E di classifica Cavolo Zeh No No Non di nuovo Come Dosa 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 Cosa? Sorge, si va Quindi buttano Cosa? Dobbiamo trovare Ecco Sì, trovato Ma si può andare a spingere la gente? È vero, non mi ricordo Cosa? Cos'è? 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 This is better Blue Blue one, vai Ha ha Timber Cos'è? Ok Capito? Sì Ciao Cosa? Ok Capito? 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 Ok Non ci vedo mai niente Via Sì Cavolo Ce l'ho fatta Sono ancora lì? Quelli che hanno sbagliato sono lì Oh Speed up E vai Capito? 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 Scusa Cosa? L'ho trovato? Si! Inizio gli attieni Ok Casino, Casino Catale Successo, e vai! Bucca e mob Cosa? Spanate! Via! Ti pesco io! No, ti pesco io! No! Ma è possibile raga! Non c'è ancora nessuno! Zero! Eh, ma qualcuno mi prende! C'è qualcuno... Non lo fa prendere! Vedi? Capturazione C'è... Mio! Una! Via! È mio! Poca... Quello è mio! Quello è mio! È mio! È mio! È mio! È mio vaga! È mio! È mio vaga! È mio vaga! Guardate! Via! No! Sì, grazie! Quattro, cavolo, quante? Sono bravo No Dalla mia Vabbè Prenditelo pure Però questo è mio Cosa? Via Cinque catture Ne ho catturate cinque Fino, dai Quello è mio No, dai, ti provo, a meno male Sì, grazie! Oh, ecco Grazie Siete più gentili Vabbè 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 Via Via Pochi secondi Sette sono un po' eh Ok, adesso andiamo avanti Oh, dai È andata molto bene, eh, stavolta Per la prima volta ho giocato alle mine No Ah, ma Tutti mi seguono Oh, quindi, quindi Vuole fare una, una gara? Guardate che è stato più veloce di lui Cosa? Guarda Adesso Guarda che fai Mica bene Sì 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 Trovato Sì Ho trovato Intensamente un altro Quindi io ho trovato Successo E' vero l'ho trovato Ned Pearl Cosa? non ho capito niente bravo no no dai scemi ma li portavo normalmente contare rosso, stavolta mi sa che è rosso no come devo stare qua non mi hai preso no il mio giustizio ho cavolo ho cavolo, ho cavolo, ho cavolo ho cavolo, ho cavolo ho cavolo ho cavolo, no caro spi dappi spi dappi spi dappi Oh ca... non mi farò fregare, non mi farò fregare, non mi farò fregare, no! Che cacchio! Cacchio dai! Cacchio dai! Cacchio! Vanno che non è? Si, fai tu fuori una! Si, fai tu fuori una! Fai tu fuori una! Fai tu fuori una! Fai tu fuori una! Si, fai tu fuori un'altra! No! No! Oh ca... no! Ma ve lo ve lo ragazzi! Eh... oh ca... oh ca... Oh ca... oh ca... Oh ca... Oh ca... Pericolosissima! Noni no! Oh ca... son potente! Venga più... Oh successo! No! Come? Cosa? Cosa? Cosa è successo? Non ho capito! Ti ho pagato tutto! Ok... Devo trovare... Devo trovare... Devo trovare... Devo trovare... Devo trovare... Dai c'è veloce! C'è veloce! Non ho capito il gioco! Non ho capito il gioco! Non ho capito il gioco! Non ho! Non ho capito! Non, 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 non Sì. Come fai LED? Come? Moria. Moria. Sì. Ha finito quando ancora ero in volo quindi l'ha preso. No, guarda che guarda Ok, no Ok Non vedo niente, come faccio? Suggeste, vai Cazzo snap No, ti prego no Ti prego no Ti prego no No, è difficilissimo No, è difficilissimo Si, success! E vai Devo salire Si, ce l'ho fatta Successo, vai Boschi Che gioco è? No Ti prego di nuovo no Questo no Uno Già, non ho catturato uno Via Via È mio Quindi questo No vabbè Sembrava strano Grazie Grazie Ho Tre Ragazzi Un altro No 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 da me Vieni Vieni da me Vieni da me Vieni da me Vieni da me Sì Sì No No Via Bravo Bravo Mia 57 secondi Posso battere il record Posso battere il record Pochissimo manca per battere il record Manca poco Manca poco Dai su che manca poco Sì Sì Nove Mio Vai da me Sì Dieci Sì Undici Sì Venite qua No 20 secondi No adesso di qui c'è Sì Via Sì Come fai Ned? Come? Ah no ho vinto Fai la prossima Ok Grazie per questo video Tutti ci vediamo in un prossimo video Ciao